Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio termometro politico sulle intenzioni di voto. Fratelli d'Italia al 29,6%, il PD al 22,8%, Movimento 5 Stelle 10,2%, Lega 8,7%, Forza Italia 8,6%, AVS 6,7%, Azione 2,8%, Italia Viva 2,3%, Più Europa 1,7%, Pace Terra Dignità 1,5%, Democrazia Sovrana Popolare 1,5%, Noi Moderati 1,2%, Sud Chiama Nord 0,6%, Altri Partiti 1,8%, Grazie a tutti, arrivederci a presto.